e se ti dicessi questi tre punti sono realizzati tutti e tre alternando una maglia al dritto una rovescio ciao sono rosalba e questo è il mio canale il mondo mi intrecciato ben arrivato oggi ti vado a mostrare come lavorare questi tre punti così diversi l'uno dall'altro lavorando sempre lo stesso modo alternando una maglia al dritto e un arrovescio punto coste uno a uno grana di riso semplice grana di riso doppio quindi andiamo a preparare il nostro primo punto comincio subito per farti vedere come avviare le maglie se già sai avviarle non ti interessa vedere questa parte vai a questo minuto per vedere come si sviluppa il punto allora tengo la cosina tra la mano e passo il pollice in questo modo l'indice in questo modo quindi avvolgo pollice indice e vado a tenere il filo così qui c'è la codina lascio un pochino più lunga per questo punto andiamo avviare un numero a caso nel senso quelle che ci servono senza dover calcolare un numero di maglie pare dispare un multiplo di qualche numero come si fa per altri punti questo in questo punto si realizza su una maglia al dritto e un arrovescio quindi ti fa più comodo avere un numero pari di maglie ma se hai bisogno di un numero disparo non ti preoccupare non cambierà nulla quindi una volta che hai preso il filo in questo modo oggi abbiamo con il doppio ferro ma puoi farlo anche con un solo ferro se ti è più comodo andiamo a passare i ferri in questo modo facciamo questo questa torsione del filo e questa sarà già la nostra prima maglia andiamo a passare i ferri sotto questo filo come vedi si va a creare un'asola e noi andiamo proprio entrare in questa sola andiamo a prendere il filo e lo passiamo attraverso l'asola tiriamo e andiamo a ripetere adesso questo passaggio per tutte le volte che ci serve per realizzare le nostre maglie quindi due per tutti e tre i punti che andremo a vedere oggi e l'inizio del lavoro è sempre uguale quindi sfiliamo un solo ferro ed ecco qua pronti per iniziare dobbiamo lavorare una maglia al dritto e un al rovescio per tutto il ferro ti faccio vedere come realizzare il punto a dritto allora infilo il ferro nella maglia in questo modo passo il filo e lavoro una maglia a dritto passo il filo dietro in questo modo vado a prendere la maglia in questo modo e realizzo la mia seconda maglia a rovescio continuo alternando le maglie passo il filo davanti maglia al dritto filo dietro maglia a rovescio e faccio così fino alla fine del mio ferro termino con una maglia a rovescio ma non sono di più va bene quindi finirò con una maglia al dritto come vi dicevo pare un disparo non fa la differenza lo stiamo proprio facendo come prova quindi abbiamo terminato con una maglia a dritto se avete un numero di maglia a rovescio se avete un numero di maglie pare terminerete con una maglia a rovescio vado a girare il lavoro e adesso dobbiamo lavorare maglia su maglia come si presentano quindi questa barretta ci indica che la maglia a rovescio questa V ci indica che la maglia è al dritto qui c'è una barretta e lavoreremo a rovescio questa è una V e lavoreremo al dritto quindi non andremo altro che ripetere il ferro che abbiamo già fatto una maglia al dritto e una a rovescio lavorando le maglie come si presentano quindi questa è una maglia a rovescio una maglia al dritto ecco qua molto semplice questo è il punto coste uno a uno come vi ho già detto anche in un altro video questo punto si può fare in modo differente alternando due o tre maglie al dritto e due o tre maglie a rovescio quindi invece di lavorare una maglia al dritto e una a rovescio andiamo a lavorare due al dritto due a rovescio oppure tre al dritto tre a rovescio e così via ecco qua ora lavoro qualche centimetro e ti faccio vedere il risultato finale ecco qui dopo qualche ferro il nostro punto coste uno a uno punto dupli fast bellissimo usato per i polsini dei maglioni o anche per i bordi dei calzini guarda l'inizio del lavoro quanto è carino fatto comunque l'avvio con i ferri doppi con due ferri il lavoro viene un pochino più morbido ecco qua ora andiamo a vedere come realizzare il punto grana di riso o vago di pepe ho già avviato anche in questo caso un numero paro di maglie ma è indifferente il numero che tu metterai sul ferro perché anche questo è una ripetizione di una maglia al dritto e uno a rovescio e tu dirai che cosa cambia? allora vediamo nel progetto in che modo cambia allora ho voluto lavorare subito dopo l'avvio delle maglie un ferro di maglie a rovescio quindi ho volto il lavoro e come puoi vedere il primo ferro è completamente al dritto questo passaggio è opzionale non fa parte del punto come ti dicevo il punto si svolge lavorando una maglia al dritto e una maglia a rovescio come ti ho detto per tutti e tre i punti che andiamo a vedere oggi le maglie si lavorano sempre allo stesso modo una al dritto e una a rovescio cambiamo solo un po' la disposizione delle maglie ecco qua arrivata all'ultima maglia una maglia a rovescio perché qui contrariamente all'altro mi sono ricordata di fare maglie pare ecco qua allora questa maglia questo ferro è ugualissimo all'altro quindi volto il lavoro mentre nell'altro lavoro andavamo a lavorare le maglie come si presentavano quindi alternando sempre una maglia al dritto e una a rovescio ma mettendole una sopra l'altra quindi questo è un dritto e la lavoravamo al dritto questa a rovescio la riconosciamo dalla barretta la lavoravamo a rovescio dritto, rovescio, dritto, rovescio questa volta andremo a mettere le maglie a lavorarle al contrario di come si presentano quindi maglia al dritto andiamo a lavorare a rovescio andiamo a lavorare a dritto maglia al dritto come diceva una V andiamo a lavorare a rovescio quindi sappiamo che dobbiamo alternare le maglie quindi senza stare a controllare ogni maglia se abbiamo lavorato correttamente il ferro precedente qui verrà da sé che quando lavoreremo a rovescio sarà al dritto quella sotto e viceversa se lavoriamo al dritto quella sotto sarà a rovescio ora già da questi primi due ferri potrai notare la differenza ma poi lavorerò qualche ferro per farti vedere il risultato ecco qua vedi già che effetto diverso lavoro ancora qualche ferro e poi ti faccio vedere ecco qui dopo qualche ferro come si presenta il lavoro ora ti dico giusto due curiosità su questo punto che stiamo lavorando e su quest'altro che abbiamo già lavorato coste 1 a 1 allora su questo qui ti consiglio se non sei tanto esperta di iniziare di avviare un numero disparo di maglie questo ha un motivo veramente semplice se noi iniziamo con una maglia al dritto tutte le maglie dispare saranno a dritto quindi se abbiamo montato un numero disparo di maglie l'ultima maglia che andremo a lavorare è un dritto in questo caso sono pare come vedi la prima maglia è a rovescio e l'ultima è al dritto se fossero state dispare questa sarebbe stata al dritto e l'ultima al dritto ora ti faccio vedere proprio su questa maglia che è a dritto quando io la vado a girare la maglia il ferro per la lavorazione la maglia lavorata al dritto risulta a rovescio noi sappiamo che in questa lavorazione la maglia che si presenta a rovescio la dobbiamo lavorare al dritto quindi avremo la maglia al dritto per iniziare il nostro ferro e finirà sempre con una maglia al dritto girando il lavoro ci ritroveremo sempre una maglia a rovescio che dovremo lavorare a dritto quindi ogni ferro inizierà con la maglia al dritto sappiamo che dobbiamo alternare le maglie dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio fino alla fine e quindi ci togliamo un pensiero iniziamo sempre al dritto e le maglie si alternano da sole mentre nel caso di questa al contrario avendo un numero di maglie che si alternano che si lavorano sempre come si presentano se io ho un numero pari di maglie qui vi ricordate abbiamo fatto un avvio di dispare per errore se io avessi un numero, quindi tolgo questa se avessimo un numero pari di maglie noi inizieremo con una maglia al dritto e finiremo con una maglia a rovescio voltando il lavoro la maglia a rovescio è una maglia al dritto che noi andremo a lavorare a dritto quindi montando una maglia un numero di maglie pare non dovremmo pensare a come iniziare il lavoro lo inizieremo sempre con una maglia al dritto alternando poi le varie maglie dritto rovescio, dritto rovescio verrà da sé che le maglie saranno incolonnate perfettamente quindi per un coste maglie pare per un grano di riso o un vago di pepe invece metteremo un numero disparo di maglie come vi ho detto all'inizio non c'è problema anche se lavoriamo un numero qualsiasi di maglie perché per questo punto non è necessario avere un numero specifico di maglie una curiosità che vi voglio far vedere è la grandezza del lavoro per questo vi consiglio sempre quando iniziate a fare un lavoro di preparare un campione vedete quanto sviluppa un punto coste che è un punto molto elastico rispetto a un punto che è eseguito sempre nello stesso modo quindi una maglia al dritto e un arrovescio quanto è più grande quindi mi raccomando fai sempre il campione per i tuoi lavori ma ora andiamo a vedere ancora un altro punto che si lavora sempre su una ripetizione di una maglia al dritto e un arrovescio lavoriamo come la grana di riso ma andiamo a vedere perché si differisce da essa allora per questo punto grana di riso doppia ho già lavorato un ferro al dritto che non è parte del punto quindi opzionale se vuoi farlo lo fai se non lo vuoi fare non lo fai non fa parte del punto e poi ho lavorato il primo ferro l'ho lavorato perché questa è una ripetizione di una maglia al dritto e un arrovescio come abbiamo visto fino adesso quindi è inutile che ti faccio perdere tempo e te lo faccio rivedere quindi una maglia al dritto e una maglia al rovescio per il nostro primo ferro ora dobbiamo lavorare come per il punto coste 1 a 1 quindi maglia al dritto che la riconosciamo dalla V andiamo a lavorare al dritto ferro dietro perché questa maglia è al rovescio e la andiamo a lavorare al rovescio di nuovo maglia al dritto la andiamo a lavorare al dritto e così via fino alla fine del ferro quindi primo ferro una al dritto e una al rovescio secondo ferro come si presentano le maglie alternando sempre una maglia al dritto e una al rovescio quindi come se stessimo a lavorare il punto coste 1 a 1 ecco qua terminato il secondo ferro del nostro motivo giriamo il ferro e questa volta andiamo a lavorare le maglie al contrario di come si presentano quindi la nostra prima maglia è una maglia al dritto andiamo a lavorare a rovescio la nostra seconda maglia è una maglia al rovescio quindi la andiamo a lavorare al dritto quindi questa parte di lavorazione è come la maglia la grana di riso semplice cioè questo qua che abbiamo visto insieme quindi arriviamo alla fine del ferro alternando le maglie al contrario di come si presentano arrivate arrivati alla fine del nostro ferro voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le maglie esattamente come si presentano lavorando il rovescio sul rovescio il dritto sul dritto quindi andiamo a lavorare di nuovo come le prime due righe solo che questa volta andranno saranno all'opposto quindi avremo fatto due ferri una al dritto e una a rovescio e per i prossimi due ferri rovescio sul dritto e dritto sul rovescio andiamo a vedere questa è una maglia a rovescio e andiamo a lavorare a rovescio la prossima una maglia al dritto che nei due giri precedenti erano due maglie a rovescio era una maglia a rovescio adesso la lavoriamo al dritto questa a rovescio e così via al dritto fino alla fine del ferro quindi possiamo anche dire che questo è un mix tra le due tra i due punti che abbiamo appena visto coste 1-1 e la grana di riso semplice adesso non è proprio ben visibile lavoro qualche altro ferro e poi ti faccio vedere il risultato di questo altro punto di quest'altra lavorazione ecco qua dopo qualche ferro l'effetto di questo punto secondo me è molto carino e ti faccio vedere e ti faccio vedere la differenza ecco qua ho voluto mostrarti questi tre tipi questi tre tipi di lavorazione perché per mostrarti come alternare lo stesso facendo lo stesso schema quindi una maglia al dritto e una a rovescio alternandolo in modo differente possano uscire dei lavori totalmente diversi questo è uno dei punti al quale sono molto affezionata perché è il punto che mia nonna che mi ha insegnato a lavorare a maglia e a uncinetto ha sempre usato o usato più spesso per fare per realizzare dei capi per i bambini tra cui anche i miei figli quindi sono molto affezionata a questo punto mi piace molto e effettivamente ha un bel ha un bel effetto tra l'altro come vedi questo punto rimane dritto quindi volendo puoi realizzare anche una sciarpa e rimane dritta senza rotolarsi puoi realizzare una maglia senza il bordo se preferisci un top anche con del cotone estivo viene molto carino e non devi lavorare il classico un bordo che potrebbe essere anche un coste 1 a 1 per riuscire a mantenerlo dritto come nel caso della maglia rasata che in realtà se non fai un bordo quella va ad arrotolarsi sia in questo senso e sia in questo senso invece questa rimane bella dritta sia la grana di riso che la grana di riso doppia ok io spero che anche questa volta il video ti sia piaciuto e ti sia stato utile lasciamolo detto in un commento e lasciami un bel mi piace iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti clicca sulla campanellina ciao al prossimo progetto grazie a tutti